L'avvocato Giuseppe Coppola è il nuovo presidente del Rotary Club di Alcamo, ha preso posto di Maurizio Bambina, il quale durante il suo mandato l'ha caratterizzato su specifici temi e in particolare la tutela ambientale. Ma vediamo chi è il nuovo presidente del Rotary e qual è il programma che ha già illustrato nel corso della sua investitura. Salve, sono l'avvocato Giuseppe Coppola, neopresidente del Rotary Club Alcamo. Per quanto riguarda il nostro programma, noi vogliamo fare un Rotary con stile, classe ed eleganza, in modo tale che possiamo riportare il Rotary al centro della scena e la città di Alcamo. Come possiamo fare tutto ciò? Sicuramente facendo service, facendo service in tutti i suoi livelli, a livello internazionale, a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale e cittadino. I nostri principali obiettivi saranno quelli di, innanzitutto, dare spazio e visibilità ai giovani artisti alcamesi, ma allo stesso tempo stiamo lanciando una iniziativa per dare e offrire tutti noi professionisti del Rotary Club Alcamo un servizio pro bono in favore dei soggetti meno abbienti. Un programma molto arreticolato. Qual è l'obiettivo principale, se c'è un tema, sul quale punterete in particolare? Lei ne ha illustrato alcune. Innanzitutto, quando partiremo? Noi siamo già partiti, siamo subito operativi, però sicuramente alcuni progetti partiranno dopo l'estate, perché ci sincronizzeremo anche con altri club della zona, della provincia, ma anche del distretto, e quindi inizieremo con una campagna pubblicitaria e seguirà alla fine l'inizio del vero e proprio progetto. Inoltre abbiamo anche altri obiettivi, ad esempio, è importante che il Rotary torni al centro della scena della città, proprio per questo noi vogliamo un Rotary comunicativo, un Rotary aperto, il Rotary deve essere presente. Vogliamo farci quindi conoscere dalla cittadinanza, essere vicini a tutti quanti i cittadini, ma soprattutto vogliamo dare anche un taglio internazionale al nostro club. Infatti ho concluso un accordo, visti i miei rapporti anche con Londra, con la presidente Rotary Club London My Fair. Infatti Alcamo, quanto prima, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, volerà a Londra per siglare un accordo proprio con il Rotary Club London My Fair. Avvocato, vuole presentare il nuovo direttivo? Sì, il nostro direttivo è un mix fra giovani e gente di comprovata esperienza rotariana, mi spiego meglio. L'esecutivo è il più giovane d'Italia e quindi questa è una cosa di cui ci vantiamo e quindi questo dimostra che il nostro è un club all'avanguardia. Chi sono i componenti del nostro direttivo? Allora, io sono appunto il presidente, come segretario abbiamo Antonino Pugliesi e Stefania Scuto, i prefetti Catarina Brucia e Saverio Rubino. Il tesoriere è Stefano Gallo, che ha una grande esperienza nella tesoreria del nostro club. E poi abbiamo quattro vicepresidenti che hanno una lunghissima esperienza rotariana. Per primo cito l'avvocato Rocco Cassara, che addirittura è socio fondatore, quindi con i suoi consigli ci potrà fare crescere ulteriormente. E poi abbiamo altri tre vicepresidenti, altrettanto saggi e sapienti, i quali Luigi Culmone, Piero Catani e Antonio Di Lorenzo. Penso che questa squadra sia un ottimo mix fra giovani, freschezza ed esperienza e potremo portare avanti molto in alto il nostro club.